Tante volte ad Augusto, abbiamo detto, nei mesi scorsi si è raggiunto un debito stratosferico, tanto che il Comune è stato sciolto per le cosette infiltrazioni mafiose o per il timore di infiltrazioni. Il Comune è adesso retto da una commissione governativa proprio per questa ragione. Questa commissione ha ritenuto opportuno per pagare i debiti che aveva in buona parte, soprattutto i creditori che avevano bisogno di avere soldi liquidi. La commissione ha ritenuto l'opportuno richiedere un prestito di 15 milioni di euro. La domanda che si pongono alcuni è questa, 60 milioni circa più 15 fanno 75 milioni perché il prezzo deve pure restituire. E allora voi come rispondete come commissione? Ne parliamo con la dottoressa Cocciufa. Allora, intanto bisogna chiarire che parliamo di cose un po' diverse. Il pagamento di questi famosi 15 milioni di euro è un fatto, è legato ad una norma di legge che ha riguardato tutti i comuni. Parliamo dei famosi debiti della pubblica amministrazione. C'è stato chiesto di quantificare tutta una serie, ovviamente parliamo di debiti certi, liquidi ed esigibili ad una certa data, quindi non parliamo ovviamente di debiti fuori bilancio, non parliamo di cose non certificate. E questo l'hanno fatto tutti i comuni italiani, l'abbiamo fatto anche noi, abbiamo avuto, grazie a questi fondi, che sono fondi di provenienza statale, abbiamo avuto la possibilità di pagare una serie di debiti di fatture che erano fatture già esigibili e che comunque non venivano pagate per mancanza di fondi. I famosi 60 milioni di debiti invece sono un'altra cosa, nascono da una situazione, da una verifica approfondita su tutto quello che in questo comune era stato impegnato e non pagato, ma per vicende che spesso comunque non hanno neanche le caratteristiche della regolarità. E' chiaro che la mia è una risposta molto, come dire, generale, le questioni più prettamente tecniche, non sta a me dirle, li può dire qualcun altro? Le affronteremo con un altro momento, magari con il nostro sovraordinato, che dico per queste ragioni e forse sarà più dettagliato. Allora la ringraziamo, la ringraziamo.